Squadra in rodaggio ma anche diverse chance create, finisce 0-0 tra Torrese e Ovidiana sul Mona nella gara inaugurale del triangolare B di Coppa Italia di eccellenza. Avvio positivo per la Torrese con Mendez che impegna Marini dopo una corta respinta. Azione in fotocopia al decimo, cambiano gli interpreti e il palo a salvare gli ospiti sul tiro di Budano. Marini, arrivato da pochi giorni dall'Aquila, si tuffa alla sua sinistra per intercettare la punizione di Stefano Cichella al ventunesimo. L'Ovidiana in maniera concreta si fa vedere nell'area avversaria per la prima volta al ventisettesimo quando Pierluigi Mecomonaco conclude oltre la traversa un'azione nata da calcio d'angolo. Botta e risposta in chiusura di prima frazione, quarantaquattresimo dalla distanza Budano impegna Marini sul capovolgimento di fronte e un attento botta ad opporsi allo sgusciante Braghini. La prima emozione della ripresa arriva al dodicesimo, grande protagonista Edoardo Marini, classe 2006, estremo difensore che respinge il primo tiro di Mendez e soprattutto si immola, deviando in angolo, il successivo tapine di Budano. Forze fresche in campo con tre cambi per i giallorossi, uno per gli ospiti, passata la mezz'ora doppia chance per la Torrese. Al trentunesimo Marini, sempre lui si oppone a Budano, qualche istante dopo su un'azione in velocità è proprio uno dei neoi entrati, Rossi a calciare fuori, a tu per tu con il numero uno Ovidiano. Sul Monaco si rende pericoloso per la prima volta nella ripresa al quarantesimo con un piazzato di Romano Puglielli, botta e sulla traiettoria, ma il pallone si stampa sul palo. E l'ultima emozione del match finisce senza reti, domenica 25, nella seconda gara del triangolare, derby tra Montorrio e Torrese, riposerà l'Ovidiana sul Mona.